Il pallone arriva tra i piedi di Bairoff, non riesce però a trovare il momento buono. Alla fine Marrazzo, cerca di tirare in porta, ancora Marrazzo che la alza ma arriva lontano dal 7. Ci mette la testa però Porcino per impedire l'azione, però recupera comunque Martinelli. Martinelli dà il numero 11 del Guariniello, però poi c'è la parata di Marenco, insiste ancora Mariniello, grande rischio per la porta del Crema. Erpen sul pallone, subito pronto a scodolare verso l'area, vediamo tutto il Crema schierato, bellissimo il passaggio per Marrazzo. Marrazzo dalla fascia a destra riesce a mettere il pallone verso la porta, difesa da Mazzetti. Donida che serve Mandelli, punta l'uomo in area, azione molto pericolosa del Crema, si gira Erpen, tiro palla davanti. Arriva il gol, arriva Porcino, grandissimo, grandissimo. Non ci sta a perdere sul campo di casa, tiro di nuovo, grandissimo Marenco, si butta a terra, fa suo il pallone con grande autorevolezza. Vediamo Mandelli che lancia Marrazzo, Marrazzo tra due avversari, viene ostacolato ma si inserisce Bayrov, tiro di Bayrov, peccato, rimpallato sul piede di Singh. Donida si avvicina, serve ancora Mandelli, Mandelli a Biraghi, Biraghi cerca lo spazio per il tiro, gran gol di Biraghi, incredibile, euro goal di Biraghi. Il pallone è scontato da mezzo, sul primo palo, attenzione, grande rischio. E alla fine ottimo intervento di Marenco, molto bello il calcio d'angolo calciato sul primo palo, ma Marenco non si lascia sfuggire nulla. La Romadese non è morta e avanza. Bellissimo questo servizio del numero 10 Martinelli a imbucare Guariniello, ma attentissimo anche questa volta Marenco. Ecco Guariniello che lancia direttamente verso la porta, pericolosa, bella la sua esecuzione, di pochi centimetri sopra la traversa, ma Marenco era pronto. Gli stessi cambi stanno premiando il crema con un Dell'Anna molto mobile, lo vediamo proprio in questo momento. Pallone pericolosissimo per Pagano ed ora Mandelli spara a rete, nulla da fare, si oppone Mazzetti. Dell'Anna recupera molto bene questa palla, metà campo, avanza, palla al piede, grande Thomas Dell'Anna, bellissima, tenta addirittura la conclusione e parata di Mazzetti. Di nuovo Mandelli che apre sulla sinistra per Thomas che punta l'avversario, Thomas tiro pericolosissimo a rete, che botta ragazzi. Grande Thomas, grande incursione di Thomas sulla destra. Thomas chiede il pallone, Gomez punta l'uomo, Dell'Anna, Dell'Anna spara a giro a rete e il pallone scivola oltre la destra di Mazzetti. È vicinissimo al palo, è un tema di... Grazie. Grazie.